Ciao a tutti. Prima devo fare un saluto al signore Alcio Lenzi. Lei è un oriundo trentino che abita in Brasile e che ne segue sempre e gli ha mandato gli auguri. Ne segue perché noi parliamo sempre di lei trentino e quindi a lui fa piacere. Caro Lenzi sei sempre qua per il trentino. Fatto questa premessa mi voleva dire una cosa. Questo è il periodo delle vacanze dove tu ti va al mare. Allora se ti guardi la televisione, te leggi il giornale e ti mette sempre una misciata sulla storia di prova costume. Se bisogna fare la prova costume. Allora mi mi sono detto, per chi anche il dottor Frendolo, mi sono detto che fa la prova costume. Fin ieri sera maia polenta e con lei ha tutto andare. Adesso il sabato va al mare e pretenderia in 2-3 di andare in linea. Va a fare le corse su aciclabile, fa la ginnastica, resta in giro con il maniare. Ma secondo noi non vi fa niente. Noi però abbiamo una soluzione a quel problema male. E' una soluzione molto veloce. Il dottor Frendolo fra l'altro la fa dei corsi con l'Archimede Pitagorico. Secondo me la fa corsi con l'Archimede Pitagorico. E gli ha trovato una formula magica che basta beverla. Te la bevi questa qua. Questa qui è la formula del dottor Frendolo e in un attimo ti può andare al mare tranquillamente a fare la prova costume. Allora noi che abbiamo qui è il nostro amico Misha, Misha Tintan, Misha che dopo un problema. Che qui anche il nostro amico l'ha prenotato al mare. Vai, vai Beppi, vai. Ecco, qui è il nostro amico che sapevo che vai, sapevo che vai, l'ha prenotato all'hotel acqua marina del Riccione, no? E il Gavri ha bisogno di una limadina, insomma una restrezione. Ecco, ecco. Allora, noi volevamo fare la prova perché secondo noi la va benissimo. Allora, dai un bicicletto per mettere che ho ancora un po' di puderpeak, salvia. No, poi a posto. Allora, Beppi, noi ti diamo, a te che vuoi due bicicletti però, adesso la prova a costruire va bene, ma a te due bicicletti. Ti bevi due bicicletti di questi, due bicicletti. Ecco, prepari, dai, dai. Buono, buono, basta, basta. Tieni, aspetta però, dottor Frendolo, aspetta perché è meglio che tirate su dentro della tela perché intanto beve il bicicletti, perché l'effetto della porzione magica l'è dirompente e siccome le nostre trasmissioni, guarda quei puderoti, è meglio essere più coperti. Ecco, minuti, minuti e mesi, bevi due, 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 eh, due, bevi, 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 bom, bom, bom. Allora, cinque, quattro, tre, due, uno, andiamo a vedere quello che ti fai. Frendolo! Ma, ma che, ma che fa, che ha combinato? Ma che dà, che gambezzo, foglia di fic? Ma madonna, ma va a che spiegarti che ti fai su? Ma, ma sei sicuro di droppare la formula giusta? Stai sbagliato tu? Non si può, no? Non si può, no? Ma, eh, ma ti chi sei? Somma il bepi paia. Ma che mi stai a fare? Guido la spazzatrice. Frendolo! Allora, allora, stai attenti, se domani mattina alla guida della spazzatrice, non vedi più il barbon del bepi paia, no? Ma, eh, vedi, vedi una spazzatrice con due paraurti e un po', no? L'è sempre il bepi, l'è sempre il bepi, l'effetto di quel che guarda zocchi, il dottor Frendolo, no? E dura una settimana il tank, il tank che viene dal mare. Comunque, da Telegarda Trentino, mi, il bepi paia e il dottor Frendolo, alla prossima!